Ciao a tutti e a tutti! In questo video volevo consigliarvi due idee molto carine per fare dei regali di Natale, appunto a tema natalizio personalizzato. Il primo sito di cui voglio parlare sono queste candele qua, le Jewel Candle che sono famosissime e secondo me sono dei regali super super azzeccatissimi. Io ho tre candele a tema natalizio, due candele sono dello scorso anno mentre una è di quest'anno che è buonissima, è questa qua al Mollet Vine che sarebbe appunto Vin Brulee, quindi ha un odore fantastico, davvero è strepitosa, io l'ho accendo tutte le sere contate. E la cosa bella di queste candele appunto come capite dal nome è Jewel Candle e come vedete anche qua ogni candela come vedete ha il suo simbolino, quello aveva l'anello, questo ha appunto l'orecchini, questo qua ha anche l'anello. Intanto vi faccio vedere questa che ha la zucca e questa che è la mia preferita al gingerbread, quindi al pan di zenzero è buonissima. Queste candele all'interno hanno un gioiellino, appunto quando si lasciano scaldare troverete all'interno una carta stagnola con dentro il vostro gioiello che va da un valore di 10 euro a 250, come state vedendo appunto in questo video io ho fatto scaldare la mia, poi ho tirato fuori il gioiellino, l'ho scartato e c'era un bellissimo anello. Secondo me sono un'idea super carina perché sono molto molto economiche, ci sono vari prezzi sul sito, varie collezioni e varie promozioni tra cui potete scegliere, quindi secondo me sono delle idee super 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 carinissime, anche magari per dei regali last minute. Infatti mi hanno dato un codice sconto per voi che vi lascio qua sotto e ve lo scrivono anche qua in sovraimpressione, dovete semplicemente scrivere l'aria tutto in minuscolo e avrete appunto uno sconto per comprare le vostre candele. L'altro prodotto di cui voglio parlarvi, che già conoscete se avete visto altri miei video, sono le change case che sono questi fogli stampati che potete anche stampare con le vostre foto, quindi anche queste per dei regali sono bellissime. Vedete sono fatti in questo modo qua, vi faccio vedere quelli che mi hanno mandato, troppo troppo carini, anche queste sono divise in varie collezioni, vari temi, ci sono quelle stampate dove potete personalizzare, insomma sono favolose. E ci sono per tantissimi modelli di telefono. Funzionano in questo modo, prendete una fogliettina appunto stampato, questo qua è bellissimo, c'è scritto Mittenite Memories, prendete una cover trasparente che tra l'altro potete comprare anche dal sito, poi si inserisce all'interno. E quindi come vedete con una copertina trasparente potete avere più cover ad esempio, quindi è un'idea super super carina. Anche questa costa pochissimo perché questi fogli stampati, questi qua che trovate nel catalogo, costano dai 2 a 4 euro, mentre quelli stampati vengono 4 euro. E infatti qua mi hanno proposto uno sconto per voi, scrivendo alla fine dell'ordine questo coupon qua, quindi Christmas Ila, se spendete almeno 10 euro sul sito potete avere una cover personalizzata in omaggio. Quindi come dovete fare? Praticamente voi fate l'ordine di almeno 10 euro, scegliete anche una cover personalizzata, magari regalatela alla vostra migliore amica, al vostro ragazzo, alla vostra ragazza, a vostra madre, a vostro padre. Ci mettete appunto la vostra foto, la inserite nell'ordine, poi mettete il coupon e praticamente vi azzera il prezzo della cover personalizzata. Naturalmente se è possibile fate l'ordine prima di Natale, naturalmente più o meno entro il 18, così loro spediscono tutto quanto e vi arriva preciso preciso per Natale. Quindi, ricapitolando, tutti i codici sconto sono scritti qua sotto. Io spero queste due idee vi possano piacere, scrivetemi naturalmente se avete utilizzato queste mie due idee, se sono piaciute. Vi mando un bacio immenso e ci vediamo nel prossimo video.